Adolfo è un allevatore di animali che un giorno si trovò di fronte a una situazione difficile con un cucciolo di leone. Le persone volevano tenerlo come animale domestico, ma non avevano idea di come prendersene cura. Era affamato e spaventato, e Adolfo sapeva che doveva fare qualcosa per metterlo in sicurezza. Se non avesse agito, sarebbe morto molto presto. Perciò Adolfo ha salvato il piccolo cucciolo e l'ha portato in un centro di recupero per animali selvatici, dove avrebbe potuto prendersene cura e persino addestrarlo. In quel momento, era solo un piccolo cucciolo che aveva bisogno di tanto amore e cure. Adolfo ha deciso di chiamarlo Chiara, ispirato alla storia del re leone, ma il nome aveva un significato speciale per lui. Infatti in varie lingue questo nome significa «luce preziosa di Dio», ed era esattamente ciò che Chiara era diventata per Adolfo, la luce e la gioia della sua vita. Si considerava il suo padre adottivo e si prendeva cura di lei come farebbe un genitore. La amava, le faceva coccole, giocava con lei e si assicurava che fosse felice e soddisfatta. Tuttavia, Chiara non sarebbe mai diventata un leone domestico che poteva rimanere in casa. Mentre cresceva, era chiaro che avrebbe avuto bisogno di più di quanto il centro di recupero potesse offrirle. Adolfo doveva prendere una decisione su cosa fare con la sua amata leonessa. Per un po', ha cercato di occuparsi solo di lei, ma le nuove leggi rendevano sempre più difficile tenerla, e quando ha cominciato ad avvicinarsi agli altri animali nella riserva, e ad esercitare le sue capacità di caccia, è diventato evidente che non poteva rimanere nella riserva. Il suo istinto di caccia rappresentava un pericolo troppo grande per gli altri animali del santuario. Adolfo doveva garantire la sicurezza di tutti gli animali e allo stesso tempo assicurarsi che Chiara avesse una vita in cui potesse essere felice e vivere come un vero leone. Anche se ancora amastrusciarsi con Adolfo, si stava lentamente trasformando in una minaccia per le altre persone e animali. Adolfo si è trovato costretto a pianificare il prossimo passo. Molti pensavano che Chiara dovesse essere riportata in natura, ma non era possibile perché non sarebbe stata in grado di procurarsi il cibo da sola e i leoni vivono in branchi, quindi non avrebbe avuto supporto se fosse andata da sola nella natura selvaggia dell'Africa. Quindi, purtroppo, questa opzione non era fattibile. Un'altra soluzione era inviarla in un luogo dove gli addetti conoscessero i grandi felini e sapessero di cosa avesse bisogno. Adolfo ha trovato la Black Jack and White Tiger Foundation a città del Messico, che si è offerta di accogliere Chiara. Sarebbe stato un ottimo posto dove poteva trascorrere il resto della sua vita. La fondazione si dedica alla cura dei grandi felini e si prende cura delle loro esigenze, ma c'era anche un grande svantaggio. Sarebbe stata lontana da Adolfo e lui non avrebbe potuto vederla spesso. La leonessa avrebbe probabilmente dimenticato chi fosse Adolfo e avrebbe stabilito nuovi legami. Ma Adolfo non aveva altra scelta. Ha preso la dolorosa decisione di lasciarla andare. Chiara è andata alla fondazione e si è ambientata nella sua nuova casa. Per un lungo periodo sembrava triste e depressa, ma col tempo ha trovato una nuova famiglia ed è tornata ad essere se stessa. Sembra che Chiara si sia definitivamente adattata alla sua nuova casa e abbia dimenticato il suo padre adottivo, ma Adolfo non l'ha mai dimenticata. Dopo sette anni di separazione, finalmente Adolfo aveva i mezzi finanziari e il tempo per andare a trovarla. Era curioso di vedere come fosse cambiata e se il loro amore avrebbe resistito. Ha raggiunto l'abitacolo e si è avvicinato a lei per salutarla. C'era molta tensione nell'aria e nessuno sapeva cosa sarebbe successo. Tutti speravano che Chiara desse qualche segno di riconoscimento nei confronti dell'uomo che era stato il suo padre adottivo. Adolfo ha ottenuto il permesso di entrare nel box di Chiara, ma i dipendenti della fondazione gli hanno fatto capire che faceva tutto a suo rischio e pericolo perché poteva essere pericoloso. Cosa succederebbe se lei non si ricordasse di lui? O cosa succederebbe se lo vedesse come una minaccia? Chiara era molto diversa dal dolce cucciolo che Adolfo aveva conosciuto tanti anni prima. Era diventata una leonessa rispettata che viveva con gli altri membri della sua specie. I suoi legami con gli esseri umani erano diventati una cosa del passato. Poteva succedere di tutto. Adolfo ha aperto il cancello del box vicino e Chiara sembrava comportarsi in modo strano. Andava avanti e indietro e sembrava impaziente. Quando Adolfo l'ha chiamata per nome, ha graffiato in modo eccitato alla porta della gabbia. Infine, è arrivato il momento tanto atteso. Il cancello del box è stato aperto. Chiara si è scagliata verso Adolfo e non ha potuto trattenere le sue emozioni. Con facilità, la massiccia leonessa ha buttato l'uomo a terra. Le persone intorno erano molto soccate, temendo che stessero per assistere a una tragedia. Ma è diventato subito molto chiaro che la leonessa non stava attaccando l'uomo. Al contrario, Chiara ha immediatamente riconosciuto Adolfo e lo ha abbracciato. Il suo comportamento non era quello di una leonessa arrabbiata, ma piuttosto quello di una figlia che aveva finalmente riabbracciato suo padre dopo tanto tempo. I dipendenti della fondazione erano sorpresi ed emozionati per la scena che si è presentata davanti ai loro occhi. La cosa sorprendente è che Chiara non volesse lasciarlo andare. Usava la sua zampa e le sue zampe per stringersi a lui, poi si strusciava contro di lui come se fosse un cucciolo. Questo era un comportamento pericoloso, considerando che pesava più di 100 chilogrammi, ma Chiara sapeva essere gentile con gli esseri umani. Dopo sette lunghi anni, l'amore e il legame tra la leonessa e l'uomo erano ancora gli stessi. Adolfo ha sempre ricordato Chiara. Ha pensato sempre a quella grande leonessa e ai suoi dolci occhi. Dopo tutto quel tempo, finalmente Adolfo aveva avuto i mezzi per andare a trovarla. Non importava se Chiara non si ricordasse più di lui. Voleva solo vederla con i suoi occhi e sapere come stava. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.